E mentre l'attività dell'uomo sulla terra lascia una traccia, più o meno indalebile, destinata più o meno a durare, quella del pescatore è diversa. I pochi reperti, mal raccolti spesse volte, avrebbero meritato una sorta e un'attenzione diversa. Mentre il mondo contadino, perché interessato anche da forti tensioni sociali, è stato più osservato, più coltivato, più, lo dico fra virgolette, strumentalizzato relativamente alle lotte sindacali per l'occupazione delle terre, dai partiti di sinistra, il mondo della pesca è rimasto sempre fuori. Perché? Esprimeva meno conflittualità. Le lotte per la durata della giornata lavorativa, le lotte per il salario, lì non esistevano. Perché il rapporto di lavoro all'interno del mondo della pesca è stato sempre gettato dalla parte, cioè la compartecipazione agli utili. Grazie.